Fuga da Twitter dopo la recente acquisizione di Elon Musk. Molti utenti non hanno gradito le uscite del magnate che ha fondato SpaceX e Tesla. Dopo aver licenziato i vertici di Twitter, Elon Musk aveva deciso di allontanare anche tutti i responsabili del team che garantiva il rispetto dei diritti umani e bandiva i messaggi d'odio, senza contare l'introduzione della spunta blu dei profili verificati a pagamento, una decisione che aveva scatenato le ire di tanti utenti, anche molto famosi, a cui Elon Musk aveva risposto con ironia. In molti, da giorni, hanno deciso di lasciare Twitter per approdare a Mastodon. Si tratta di un social network, creato nel 2016 da Eugene Rochko, che si differenzia per alcune caratteristiche. Una su tutte, è decentralizzato e open source, con i post che vengono ordinati in una timeline cronologicamente e senza l'influenza degli algoritmi. Questa rete di microblogging libera rappresenta una valida alternativa a Twitter, dal momento che le funzioni sono analoghe. Al posto dei tweet ci sono i tu, con un massimo di 500 caratteri, e al posto dei retweet ci sono i boost. I creatori di Mastodon assicurano che il social non ha pubblicità e fanno anche un paragone. Se Twitter è una grande azienda, Mastodon somiglia più a un gruppo di negozi locali a gestione familiare. Ma soprattutto, non c'è un server principale, ma tanti server chiamati istanze, e i dati degli utenti non vengono tracciati. Sono alcune delle caratteristiche del cosiddetto fe diverso, dove utenti e dati provenienti da più siti e server sono connessi tra loro. E per chi non vuole proprio rinunciare a Twitter, c'è la possibilità di utilizzare entrambi i social tramite appositi client, disponibili anche come app per smartphone, come ad esempio Twitter.